Arriva il weekly curato dall'amica Barbara Passerini Cari amici di Di Pomeriggio, bentornati al nostro consueto weekly del venerdì Oggi un weekly molto ricco che ci accompagna fino al venerdì prossimo Quindi fino al 15 dicembre ci sono tantissimi spettacoli e concerti in programma Allora andiamo subito con la prima scheda Ecco la prima scheda Si tratta della 25esima edizione del premio Pigro Ivan Graziani Un momento atteso da tantissimi amanti del cantautore più amato Di origini proprio teramane In questo caso quest'anno le donne di Ivan E' il tema che trascina proprio dietro di sé Tutta una particolare visione delle donne amate Amatissime dal nostro Ivan Graziani E sul palco sabato 9 dicembre alle ore 21 al Teatro Comunale di Teramo Infatti ci saranno Rita Pavone, Angelina Mango Proprio la figlia del compianto Pino Mango Il tutto chiaramente farà da padrone di casa al tutto Filippo Graziani Il figlio del cantautore Ormai anche lui noto sulle scene nazionali Si tratta proprio anche di un premio musicale Per cui una rosa di molti cantautori Sono stati selezionati E proprio sabato 9 dicembre Saranno sul palco i finalisti del premio Pigro Si tratta di otto finalisti Di questa edizione dedicata alle donne E noi per Vodi di Pomeriggio Abbiamo una sorpresa Un contributo video Che prego la regia di mandare Eccomi Barbara, ciao Buon pomeriggio di Pomeriggio Buon pomeriggio a tutti Allora io sono qui per ricordarvi Che l'otto e il nove dicembre Al teatro comunale di Teramo Ci sarà il Pigro Quindi la serata dell'otto Sarà dedicata ai concorrenti Alla presenza di una giuria qualificata Ci sarà l'esibizione degli otto finalisti E verrà eletto il vincitore Quindi vi aspettiamo numerosi Per sostenere questi ragazzi Che arrivano veramente da tutte le parti d'Italia Dalla Sardegna, Sicilia, Piemonte E Puglia anche Quindi la serata del nove Invece sarà una serata dedicata alle donne Le donne che Ivan ha cantato Quindi delle donne, delle grandi donne Come Rita Pavone Che veramente è la regina della canzone Un'energia stupenda Ve ne accorgerete Sarà una serata magnifica E poi che te lo dico a fa Angelina Mango Sta scalando veramente le vette Di tutte le classifiche Poi ci sarà Eline Rose Eline Rose è una cantante americana Che ha tradotto un pezzo di Ivan Che sta promuovendo appunto in America E tutto questo è la conduzione di Carlo Massarini Per cui siamo in ottime mani Vi aspettiamo Un bacio a tutti Ciao E dopo le parole Della nostra Anna Bischi-Graziani Passiamo alla prossima scheda Perché gli appuntamenti sono tantissimi In questa lunga settimana Fino al 15 di dicembre E la prossima scheda Riguarda sempre uno spettacolo Che sarà in scena domani Sabato 9 dicembre Alle ore 21 Orsogni Al Teatro Comunale De Nardis Non ci facciamo riconoscere Di Marco Falaguasta E Alessandro Mancini Con in scena Marco Falaguasta E la frase Non ci facciamo riconoscere Una frase che ha accompagnato L'infanzia di molti di noi Come si evolve in una società Dove proprio il farsi riconoscere È diventato un diktat Una necessità E così si postano sui social I piatti che si mangiano Le persone che si vedono I posti in cui si va Tutta la nostra vita Raccontata quasi minuto per minuto E invece Marco Falaguasta Ci racconta un po' Anche di come si è arrivati Fin qui partendo dagli anni di piombo Da Sabrina Salerno Dai mondiali dell'82 Un viaggio che vi consigliamo Di andare a vedere A Orsogni Al Teatro Comunale De Nardis Sabato 9 dicembre Alle 21 Non ci facciamo riconoscere Sempre sabato Quindi un sabato ricchissimo Di offerte Di spettacoli Sul territorio abruzzese A Solmona Al Teatro Maria Caniglia Alle 21 Un bellissimo appuntamento Della stagione di Prosa Anna Karenina Di Lef Tolstoi Adattamento di Gianni Garrera La regia è di Luca Del Fusco In scena Galatea Ranzi Paolo Serra Francesco Piscione Stefano Santo Spago Che abbiamo tra l'altro intervistato Proprio nella scorsa stagione Di incontri sulla scena E poi insieme a Galatea Ranzi Un bellissimo Fantastico Meraviglioso Giacinto Palmarini Un attore proprio di origine Un attore teramano Di origine teramano Ha calcato I primi palcoscenici Proprio qui a Teramo Viene dalla scuola teatrale Di Spazio 3 E oggi Calca i più grandi palcoscenici E lo troveremo con Anna Karenina A sabato 9 dicembre Alle ore 21 a Sulmona Al Teatro Maria Caniglia Questa Anna Karenina Interpretata magistralmente Da Galatea Ranzi Diciamo si concentra Su uno spicchio del romanzo Sono gli avvenimenti Che accadono proprio attorno Al personaggio di Anna E proprio perché La complessità e la vastità Del romanzo Insomma Non potevano forse Secondo l'opinione Tra l'altro Del regista Nelle sue note di regia Luca De Fusco Dice Non è possibile Racchiudere In uno spettacolo teatrale Quindi della durata Di poche ore Di un paio d'ore La profondità La maestosità Di questo Di quest'opera teatrale Che è la Insomma Tra le più grandi Opere letterarie Della storia E quindi Ci si concentra Su uno spicchio Del romanzo Uno spettacolo Compatto Che andrà in scena Sulmona Al teatro Maria Caniglia Sabato 9 dicembre Alle ore 21 Quindi domani E sempre a Sulmona Al teatro Maria Caniglia Ma domenica 10 dicembre Alle 17 E 30 Quindi i sulmonesi Andranno a teatro Sabato e domenica Sicuramente La camerata musicale Sulmonese Propone uno spettacolo Imperdibile Nicola Piovani Note a margine È un racconto Autobiografico In musica Narrato da Nicola Piovani Al pianoforte Un musicista E compositore Che non ha Bisogno di presentazioni Marina Cesari Al sassofono Marco Loddo Al contrabbasso E Vittorio Naso Alle percussioni Quindi Un importante Insomma Imperdibile Concerto Domenica 10 dicembre Alle 17.30 A Sulmona Al teatro Maria Caniglia Passiamo alla prossima scheda Continua Il successo Della rassegna Diversamente In fiaba Voluta Fortemente Dall'assessorato Alle politiche Sociali Della regione Abruzzo Pietro Quaresimale Il direttore Diretto Da Zenone Benedetto Che è appunto Il direttore artistico Della rassegna Sta girando Tanti teatri In diverse Città E cittadine Della Provincia Di Teramo Ma non solo Perché Vedremo Che proprio Lunedì 11 dicembre Sarà A Pescara Al teatro Cordova Con Tele Tele È uno spettacolo Dedicato Alle Famiglie Ragazzi Quindi si tratta Di teatro ragazzi Perché diversamente In fiaba Propone proprio Spettacoli Di teatro ragazzi Che abbiano però Un taglio Diciamo Educativo E di riflessione Tutti gli spettacoli Sono alle 10 Del mattino E dedicati Alle scuole Tele È prodotto Da un altro Teatro Di Ortona Si tratta Della storia Di Tele D'Amore Un ragazzo Telemaco D'Amore Che è un ragazzo Un bambino Delle Periferie Diciamo Disaggiate Del napoletano Il padre Sparisce A un certo punto Parte Parte Per andare A cercare Lavoro E non torna Dopo tre mesi Telemaco Decide Di andarlo A cercare Il suo viaggio Sarà ricco Di tanti insegnamenti E alla fine Anche lui Capirà Che non è Importante Tanto La meta Raggiungere La meta Ma il viaggio Per arrivare Lì Quindi L'11 dicembre Lunedì 11 dicembre A Pescara Al Teatro Cordova Giovedì 14 dicembre A Montorio Alvomano Al Teatro Cinema Di Montorio In scena Ci sarà Capuccetto Rosso Un classico Per bambini Portato in scena Dalla Compagnia Dei Guardiani Dell'Oca Una fiaba Ricca di insegnamenti Che tutti Conosciamo Ma che ogni volta Ci riserva Un insegnamento Speciale Ecco Diversamente In fiaba Questi sono I prossimi Appuntamenti La regia Adesso Ci mostra Un contributo Video Apro Nel sipario Che scenografia Piena di colori E di allegria Poi un grande applauso Arrivano gli attori Sono così bravi Volano dei fiori Andare al teatro Mi emoziona Tanto Perché La fantasia Che Ti ammagia Sogna Divertiti Con noi Immagina Tutto Ciò Che vuoi Ora Ora Il bel principe Sarai La principessina Tu Salverai Eccoci tornati Al nostro Weekly Continuiamo Di gran lena Per arrivare Alla fine Della settimana Stiamo a mercoledì 13 dicembre Alle 20 e 30 A Teramo Nell'aula magna Dell'università Un concerto Un concerto Proposto Nel calendario Della Riccitelli Alessio Pianelli Al violoncello Lui siciliano Violoncellista Di fama internazionale Ha vinto Numerosissimi Premi Un talento Internazionale Suonerà Insieme a Mario Montone Al pianoforte Anche lui Un talentuoso Sarà Le musiche Saranno quelle Di Janacek Beethoven Sostakovich Il concerto È proprio inserito Nella stagione Dei concerti Della Riccitelli Ripetiamo Mercoledì 13 dicembre Alle 20 e 30 Nell'aula magna Dell'università Di Teramo Nella prossima scheda Eccoci Eccola qui Martedì 12 e mercoledì 13 dicembre A Pescara Al teatro Circus Trappola per topi Di Agata Cristi Con Lodo Guenzi Per la regia Di Giorgio Gaglione È un classico Proprio Del giallo Agata Cristi Non delude mai Questa Commedia gialla Diciamo Su questa Commedia gialla Si apre il sipario Pensate Dal 25 novembre Del 1952 Non si è Mai Smesso Di portarla In scena Una commedia Una commedia veramente Senza tempo È un'opera Perfetta Nei tempi Nei modi Tutto è Diciamo Pensato Nel minimi dettagli Per riuscire In quella magia Che è proprio La risoluzione Dei romanzi Della maestra Del giallo Agata Cristi In questo caso Lodo Guenzi È stato scelto Proprio Perché porta Un Così Una Una Possibilità Di Sparigliare un po' Le carte Quindi con Lascia spazio Proprio Alla Quella che è L'invenzione La possibile Sorpresa Ma In un Canovaccio Insomma Che sappiamo Essere Perfetto E prezioso Così com'è Martedì 12 Mercoledì 13 Dicembre A Pescara Al Teatro Circus Trappola per topi Di Agata Cristi Andiamo avanti La prossima scheda Parla ancora Di prosa Come ammazzare La moglie O il marito Senza tanti Perché È una commedia Chiaramente Di Antonio Murri Per la regia Di Filippo D'Alessio Sana in scena Giovedì 14 Dicembre Alle ore 21 Ad Avezzano Al castello Orsini Colonna Il Diciamo L'impianto scenico È quello Chiaramente Di una commedia Molto frizzante In cui Vizi Diciamo I difetti I comportamenti Maniacali Di moglie Di marito Vengono Esasperati Ridicolizzati In un Crescendo Di Ilarità Quindi Una commedia Molto divertente Giovedì 14 Dicembre Alle ore 21 Ad Avezzano Al castello Orsini Colonna Venerdì 15 Dicembre È l'ultima Scheda Che vi propongo Per questo Weekly Alle ore 18 E alle ore 21 A Treglio Al teatro Studio Giorno Di festa Da Un film Di Jacques Taty Il regista Di questo film Pensate Del 1949 È In realtà Una restituzione Della residenza Per artisti Itaca Di Appunto Del teatro Studio Di Treglio Di E con Gianluca Castellano Una produzione Enfant Terrible Di che parla Parla Della Della Giornata Di festa Di un tranquillo Paesino Sanseverre E questa La tranquillità Di questo paesino Viene sconvolta Proprio Dall'arrivo Di questa giornata Di festa E allora I preparativi Tutti si mettono In moto Vengono montate Le giosse Il tirassegno Si tirano fuori Gli abiti Buoni Quelli della festa Tutti hanno Un grande affare Persino Il postino Il postino Che dopo aver visto Un documentario Sull'efficienza Delle poste Negli Stati Uniti Decide Di correre Con la sua Bicicletta E si lancia In seguimenti Spericolati Appunto Sulla sua bici Dove andrà a finire Questa Diciamo Questa corsa Per il giorno Della festa Beh lo potrete Vedere Venerdì 15 Dicembre Alle ore 18 Alle ore 21 A Treglio Al Teatro Studio Giorno di festa Ecco questa era L'ultima Scheda Del nostro Weekly Io Voglio Per finire Ricordarvi L'appuntamento Con Pigro Proprio Domani sera Alle ore 21 A Teramo Al Teatro Comunale Non perdetelo E poi Vi lascio Ai tantissimi Appuntamenti Che sono Nei teatri Di tutto l'Abruzzo Vi ricordo Che il Weekly Non è Un calendario Esaustivo Di tutti gli spettacoli Che sono in giro Perché ne sono Veramente Tantissimi Quindi è una Selezione E vi invito Sempre A comprare Un biglietto E andare A teatro A godervi Lo spettacolo Ciao a tutti Grazie Ciao a tutti